Fatti travolgere da un'autentica voglia di emozioni, scegli un cavallo per amico. In Lombardia, più di 300 centri affiliati FISE con installazioni di ottimo livello, più di 1000 poni, 3000 cavalli da equitazione, istruttori federali al servizio di tesserati, neofiti ed esperti. Fare equitazione oggi è possibile per tutti, in sicurezza, a costi ragionevoli e vicino a casa. E provare da piccoli può portare a grandi risultati. Scegli anche tu una passione vera. Scegli un cavallo per amico. Scegli un cavallo per amico.